dunque cari amici ci siamo allora oggi oggi ho trovato una cosa interessante perché ho trovato un video di un uomo fatto da un uomo rivolto a uomini per un canale di uomini quindi io come al solito non c'entro niente però in questo video questo dizio ha fatto un esperimento che è un qualcosa che io spesso ho raccomandato di fare magari non proprio in questi termini perché io ho sempre detto bastano poche domande in realtà non c'era neanche bisogno di fare tutto questo test così lungo però già con 2-3 domande queste cose si capiscono e lui è stato molto furbo perché durante le prime fasi del dating lui ha testato tra virgolette questa ragazza ha più di 30 anni questa comunque questa donna con cui stavo scendo per capire un po' che idea lei avesse dei ruoli quanto fosse femminista o femminile e il giochino è andato bene cioè è andato bene nel senso che lui ha scoperto subito la verità allora lui stava facendo dating con questa con questa qui che aveva fare 30 e 35 anni non specifica l'età comunque fra i 30 e 35 la quale aveva manifestato la chiara intenzione il desiderio insomma di di metter su famiglia con questo qui quindi di impostare qualcosa di stabile allora lui ha detto ok allora benissimo visto che tu mi reputi un uomo di valore perché sto apportando evidentemente qualcosa alla tua vita la sto apportando tanto è vero che tu vuoi fare una famiglia con me ok e quindi lui ha detto io voglio vedere un attimo visto che io tu già sai quello che io ho messo sul tavolo perché lui ha messo sul tavolo una buona posizione economica che vi devo dire una delle certezze la casa tutte queste belle cose qui a un certo punto lui ha cominciato a dire benissimo però adesso voglio capire il tuo ruolo in tutta questa storia quale sarà e questa cosa non è sbagliata allora allora io dico facciamo vi dico un po' il discorso che ho preso almeno i punti salenti facciamo un piccolo gioco di ruolo supponiamo che tu fai il ruolo di te di te stessa e io sono quest'uomo appunto con cui hai in mente questo progetto allora dunque io sono disposto a darti un impegno per tutta la vita a provvedere te ai bambini eccetera guadagno molti soldi cioè guadagno bene guadagno sicuramente più di te e questo probabilmente è anche uno dei motivi per i quali mi hai scelto hai scelto me per questo tipo di progetto quindi la qualità della tua vita dovrebbe migliorare molto se decido di sposarti e di avere dei figli con te ora a fronte di tutto questo spiegami cosa mi dovrei aspettare in cambio oddio ho perso cioè cosa tu metti sul tavolo come contrappeso a tutto quello che ho appena detto allora questo è un ottimo test da fare per capire al di là adesso di quello che lei farà o che non farà ma già la sua reazione proprio emotiva proprio come dire di body language già vi fa capire questa un pochino che cosa dovete aspettarvi ok perché lei comincia a dire io sono intelligente sono istruita sono qua sono là quindi già queste prime risposte non sono niente di concreto perché il fatto che tu sia istruita benissimo ci fa piacere ci facciamo una bella conversazione ma a livello quotidiano che cosa mi porti tu questo è importante in realtà da capire sarei una compagna di supporto benissimo ma questo questo pure ci vuole questo ci vuole allora lui dice questo potrebbe anche essere vero però io già nella mia vita ho il supporto perché mi avvalgo di un terapeuta di un avvocato di un commercialista eccetera eccetera per cui ho svariati consulenti professionali per cui ognuno è specializzato nelle proprie funzioni e quindi ognuno di questi qua di questi professionisti si occupa di un qualcosa diciamo che mi interessa per cui il tuo ruolo non deve essere questo è questo che non capiscono le donne allora le femministe oggi che credono di accaparrarsi l'uomo di alto valore perché loro sono istruite perché loro hanno comprato la macchina allora queste cose qui io l'ho sempre detto quando tu metti sul tavolo queste cose qui e lui è un uomo di alto valore lui non se ne frega niente di queste cose perché lui dice queste cose le porto già io oppure queste cose a questo punto io potrei condividere la casa con un amico con un collega e potrei averle ugualmente quello che la donna deve invece mettere sul tavolo è la propria energia femminile perché è quella che lui non trova da nessun'altra parte ok è proprio il contributo femminile che queste qua non hanno capito l'uomo un uomo come questo qui lui non se ne frega che tu sì ma il fatto che tu sei istruita va bene è un qualcosa in più che tu hai siamo tutti contenti che tu sei istruita puoi fare una bella conversazione siamo tutti contenti ma quello che tu devi portare è il tuo contributo femminile un mindset un supporto a questa persona farlo stare tranquillo al lavoro sapendo che tu magari non fai saltare la casa in aria oppure che trascuri i bambini è questo che devi portare ok queste cose le donne non le sanno più cioè nessuno le dice più quindi loro pensano di portare il loro pezzo di carta magari col master o col dottorato d'arvard è bellissimo ma un uomo non se ne frega di questa cosa perché già lui ampiamente porta queste cose quindi fermo restando che tu queste cose le puoi anche fare le puoi fare dopo insomma non c'entra niente questo non ha niente a che vedere con il tuo contributo in famiglia in coppia ok è un'altra cosa e infatti lui mi ha dato la conferma perché lui ha detto io mi avvalgo già di tutti di tutti questi personaggi quindi questo non è qualcosa che tu questa cosa che tu metti sul tavolo in realtà non è una cosa per me fondamentale di cui avrei bisogno perché lui queste cose già ce l'ha ancora una volta cioè allora una volta che una donna lei ha sentito queste cose inizia a capire un po' meglio la situazione allora comincia a dire sì ma io posso darti dei figli ok perché tutti questi esperti non possono darti figli bene allora dice lui qualsiasi donna bene o male può darmi dei figli quindi non è questo il punto ma la vera domanda è tu sarai una madre perché io ti posso mettere al mondo pure dieci figli però te li butto nell'asilo non li penso più e io non sono una madre il mio contributo femminile non c'è allora adesso che ci sono tutte queste metodiche schifose che conosciamo autore in affitto eccetera eccetera proprio ci manca che gli uomini possono andare al mercato accopparsi i bambini quindi anche questa cosa possono fare da soli ma a questo punto ti manca sempre qualcosa e il punto non viene mai centrato infatti tu sarai a questo punto una madre saresti disposta a lasciare il tuo lavoro per dedicarti a quei bambini ma anche se non lo lasci io non ti dico che tu devi lasciarlo definitivamente non devi fare più niente però perlomeno sei disposta a ridimensionarti se magari lavoro fino alle 10 di sera sei disposta a lavorare fino alle 2 perlomeno almeno fin quando i bambini sono piccoli cioè sei disposta a dare la priorità a questa famiglia ok perché questo è il punto no la maggior parte delle donne sono spaventate da questa prospettiva e allora lei ha cominciato a dire no io non sono disposta a rinunciare alla mia carriera mi aspetto che tu faccia la tua parte quindi già le stanno postando questa relazione 50% 50% quella là di cui ci parla pure la pakistana sempre la relazione 50-50 che già è un tipo è un modello di famiglia completamente diverso è il modello di famiglia in cui io provvedo a me tu provvedi a te i bambini li cresce qualcun altro crescono negli asili la cameriera ci fa le pulizie quell'altra mi viene a cucinare questo è un modello di famiglia in cui di famiglia fra virgolette in cui a casa si va a dormire fondamentalmente c'è sempre qualcuno che fa le cose al tuo posto quindi già voi se sentite queste risposte dovete già capire che lei sta impostando un modello di famiglia che non è una famiglia tradisciano sicuramente che non è una famiglia dove ci siano ruoli di genere oppure ci sono i ruoli di genere ribaltati quindi se voi questa cosa non la volete dovete fare molta attenzione a questo tipo di risposto lui ha fatto molto bene a chiedere queste cose quindi tu mi stai dicendo che sei disposta ad essere una madre surrogata e che finirò per pagare qualcun altro per crescere i miei figli in modo che tu puoi guadagnare un po' di soldi col tuo lavoro quello che si fa oggi a questo punto lei ha cominciato a irritarsi ha cominciato a rispondere no io non penso che sia giusto che le donne insomma che le donne che io quindi debba occuparmi dell'allevamento dei bambini ecco qua in realtà sta cercando una relazione 50-50 è ugualitaria in cui tutti e due facciamo le stesse cose allora tanto vale che ti prendi un collega di ufficio perché è la stessa cosa non cambia niente il contributo femminile qua non c'è ok il contributo maschile c'è a questo punto perché se tu sei un provider se tu mi dici io guadagno bene i miei soldi sono a disposizione della famiglia per comprare la casa per crescere i figli eccetera eccetera cosa bellissima e nobilissima quindi il contributo maschile c'è ma a questo punto ci vuole il contributo femminile perché non va bene se c'è il contributo maschile e poi la cameriera che ne so l'asilo ti cresce i figli e no aspetta un momento perché il contributo femminile manca totalmente in questa storia ok allora a questo punto lui dice non mi sembra questo equo forse dovresti trovare un uomo che guadagna quanto te che metta esattamente la stessa quantità di cose sul tavolo che metti tu quindi in quel caso state investendo la stessa cifra e gli stessi sforzi allora avrete lo stesso stile di vita e costruite insieme qualcosa perché altrimenti io da uomo sono portata a pensare ma qual è il senso di sposarmi se ciò non andrà a migliorare significativamente la mia situazione ha ragione questo qui ha pienamente ragione signori cari allora quando io tempo fa ascoltare un video di Alisa la quale Alisa ricordiamoci lei è dell'est sarà russa ucraina qualcosa del genere è trapiantata negli Stati Uniti ha sposato lo Stato Unitense sempre le solite cose perché gli Stati Unitensi fanno bene a questo punto a sposare queste qui lei questo ha detto lei disse nelle famiglie di oggi cioè nelle famiglie nella società di oggi l'energia femminile non c'è proprio più perché le madri sono in energia maschile e lavorano fino alle 10 di sera i bambini crescono in mano a queste insegnanti che insomma ve ne raccomando che pure stanno in energia maschile queste qua sono femministe eccetera eccetera in casa diciamo che manca anche però questa è un'energia maschile però neanche proprio maschile perché l'energia maschile vera manca e così come manca l'energia femminile vera quindi praticamente questi bambini stanno crescendo in una in un'energia ibrida ok stanno crescendo comunque fondamentalmente in mano alle donne che non hanno energia femminile che non sono materne che praticamente sono esaurite stanno con lo stress fin sopra i capelli sono mascolinizzate sono aggressive sono uome e non va bene questa cosa non va assolutamente bene allora questo non significa questo non significa che le donne debbano stare 24 ore al giorno a fare il brodo io non sto dicendo questo e infatti pure questa Lisa non fa questo lei sta in una forte energia femminile perché comunque sta facendo delle attività lei adesso ha più di 50 anni ha dei figli insomma abbastanza piccoli nel senso che hanno 6-7 anni più o meno 8 anni un'età del genere e lei ha impostato questa famiglia in modo molto traditional cioè con i ruoli di genere ben definiti ha sposato questo americano e lei ha detto le stesse cose della pakistana ha detto io i miei figli li ho cresciuti con me non li ho buttati nell'asilo fino alle 8 di sera ok quindi l'asilo ci può andare ma 2 ore 3 ore non 10 ore all'asilo e mezz'ora con me cioè l'asilo non deve sostituire la famiglia questo è il discorso allora lei ha detto io ho cresciuto questi figli in maniera molto traditional come la pakistana adesso mi sto rimettendo in gioco sta studiando psicologia il canale il cavolo il libro tutte queste cose qua ma sempre in un'energia femminile perché la mia priorità è questa famiglia quindi è questo che tu devi trovare nel momento in cui questo fidanzato ti dice senti ma se domani noi abbiamo dei bambini ma tu te li vuoi crescere questi bambini oppure ci deve stare qualcuno o io devo pagare un altro che me li cresce perché tu che fai questo qual è il tuo contributo femminile in tutta questa ah no ah no allora io questo non lo voglio fare e allora tu vuoi avere questi figli però li vuoi buttare in mano a qualcun altro e questo non va bene cioè non a tutti va bene perlomeno non a tutti va bene ok sicuramente un uomo di qualità fa questa cosa non va bene gli uomini di qualità normalmente hanno delle donne molto femminili vicino e non a caso questo qua ha fatto delle domande ben precise perché gli uomini di qualità in energia maschile vogliono capire bene queste cose qui e fanno benissimo secondo me questo che si deve capire durante il dating una delle prime cose che devi capire è la polarità che questa qui vuole vuole diciamo impostare ok questa è una cosa fondamentale adesso chiaramente i nostri padri i nostri nonni no diciamo già i nonni dai i padri forse ancora già ne avevano bisogno ma i nostri nonni bisnonni antenati tutti quanti non avevano bisogno ovviamente di dire queste cose perché era automatico era normale che le donne crescessero i figli nessuna donna sana di mente prendeva il bambino di tre mesi lo buttava da qualche parte adesso invece sì adesso è un'eccezione trovare la donna che si cresca anche i figli quindi queste domande vanno fatte come le dovete fare ok allora allora lui dice tu sei una ultra trentenne che vuole bambini vuole il matrimone e tutto quanto perché evidentemente mi hai reputato un uomo di alto valore quindi quindi aggiungo io quindi anche io devo trovare una donna di alto valore allora dimmi in cosa tu riusciresti a cambiare significativamente la mia situazione allora questa è una cosa che ha detto anche Richard Cooper allora Richard Cooper se voi seguite il canale in uno di questi dei 250.000 video che ha fatto lui ha detto la stessa cosa ha detto io come uomo lui è un imprenditore bla 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 lo status tutto quanto lui dice ci sono però degli ambiti della mia vita in cui c'è delle cose che io non ecco io non mi so prendere cura della casa non so cucinare non so fare una mazza da questo punto di vista quindi quando io se io devo mettermi una donna vicino lui aveva una moglie allora Richard Cooper era incappato in questa moglie workaholic al massimo cioè questa faceva l'avvocato e certe volte si ritirava alle due di notte a casa perché aveva questo lavoro stava diventando socio dello studio legale quindi era assorbita in tutto e per tutto dal lavoro quindi parliamo di una donna in fortissima energia maschile stressatissima proprio al massimo e loro due hanno avuto una figlia la quale figlia ovviamente stava sempre in mano a qualcuno perché questa si ritirava alle due di notte e lui a un certo punto si è separato da questa qui perché giustamente ha detto la mia famiglia non esisteva io tornavo a casa questa non c'era la bambina non so dove stava tutto buio tutto spento non c'era niente di cucinato la casa era un disastro quindi perché la casa intesa come home siamo noi donne a farla se decade la donna da questo punto di vista non la fa più nessuno quindi chiaramente a un certo punto la sua famiglia è venuta meno allora lui questo ha detto in uno dei suoi video che sono sempre rivolti agli uomini ovviamente lui ha detto badate bene a questa cosa ha detto voi dovete capire il contributo di questa donna nella vostra vita quale sarebbe perché a questo punto se tu ti rifiuti di fare anche queste cose nel senso che io ci il mio contributo maschile te lo do ti do un bel tetto sulla testa sei sicura ci sono i soldi per fare la spesa per crescere i bambini e tutto quanto tu il tuo contributo femminile lo devi dare però non è che poi i bambini li prendi e li butti da qualche parte poi nessuno ti vieta di fare l'attività la cosa però diciamo un pochino più ridimensionata perché se tu vuoi fare una divisione di ruoli tu devi avere qualcosa di un impegno che sia un po' più leggero ok perché a questo punto possiamo fare l'80% della diciamo della della situazione economica la risolve lui l'80% di tutte le cavolo di cose che ci sono da fare in casa le risolvi tu poi c'è quel 20% che avanza che si può suddividere ma ci vuole un minimo di come dire ripartizione se no insomma diventa un po' difficile ok quindi tu come potresti cambiare la mia situazione un matrimonio un eventuale matrimonio con te in cosa mi darebbe quale contributo in più mi darebbe allora lei ovviamente quando sentiva queste cose cominciava a sbrettare a parlare del patriarcado di queste cose qua e là dovete arrivare perché se lei mi viene a dire che crescere sti figli è da schiave del patriarcato voi le dovete lasciare là e le dovete andare perché allora non va bene questa cosa ok quindi arriviamo al punto ultimo della questione e lui dice senti io sono un uomo di alto valore un uomo con cui tu vuoi sposarti e avere dei figli perché se tu non lo reputi questo normalmente non dovresti vabbè allora l'unico modo che hai per ottenere questo obiettivo cioè avere la famiglia è che a questo punto anche tu devi fornirmi devi fornire qualcosa a me qualcosa che che io comunque non ho che non posso avere in altro modo quindi inutile mi dice ma io sono istruita è bravo ok la sera parliamo di di filosofia benissimo però alla fine io posso parlare di filosofia pure col collega di lavoro o col mio avvocato o con chiunque altro insomma allora l'uomo l'uomo diciamo che per te più difficile da ottenere è quello che ha già tutto e quindi che non ha bisogno di niente ok l'uomo più difficile da avere effettivamente questo sia in termini emotivi che in termini pratici perché se lui quanto un uomo più appagato da quello che ha da quello che fa da quello che riceve eccetera eccetera lui più appagato più tu dovrai offrirgli qualcosa che lui non ha evidentemente e l'unica cosa che l'uomo non ha nella sua vita è l'energia femminile è una donna comunque l'energia femminile non si intende che lui si prende l'escorta a pagamento per una sera non è quella che gli risolve la vita quello che diciamo che gli risolve tra virgolette la vita il contributo vero lo dà una donna che comunque gli porti un certo supporto morale spirituale con i figli l'energia femminile perché anche le attenzioni che noi possiamo avere in casa magari l'attenzione per l'arredamento e determinate cose a cui noi siamo più cioè a cui mi correggo le donne in natura in energia femminile hanno attenzione ovviamente queste cose non le fa l'uomo ok allora quindi io che sono un uomo di alto valore non ho bisogno di niente perché alla fine se ho bisogno delle pulizie allora mi prendo la cameriera che me le fa però una cosa è avere la cameriera che me le fa a pagamento e un'altra cosa è avere la moglie che te le fa perché per lei è una missione è un qualcosa che ama fare perché mi vuole creare un bel ambiente è molto diversa la cosa ok dunque se vogliamo parlare in un ambito generale tra le cose che una donna può offrire alla maggior parte degli uomini di alto valore è l'intimità e l'allevamento dei figli e una piacevole obbedienza adesso lo so che qua scende il patercato ma è così obbedienza si intende sempre quella sottomissione di cui abbiamo già parlato che sarebbe nient'altro che la polarità la differenza di potenziale uomo-donna questa è cioè dove lui comunque è il leader e la donna segue la leadership e così non c'è niente da fare se non trovate questa cosa allora vi troverete in una coppia con polarità invertita quindi tutte le altre cose l'uomo può già acquistarle perché anche l'intimità diciamo bene o male però l'intimità che è diversa l'intimità che tu hai con un appagamento non è la stessa che tu hai con una persona che ti vuole bene è un po' diversa la cosa immagino crescere i figli sì anche la babysitter te li può crescere ma non te li cresce con la dedizione con l'amore di una mamma è molto diversa la cosa poi tutte le cameriere e le babysitter che puoi avere non ti creano mai quell'ambiente familiare quel calore familiare proprio che ti crea una donna in energia femminile però in energia femminile ok allora l'obbedienza si intende la polarità se vi piace di più la chiamiamo polarità visto che è una parola molto politicamente scorretta comunque allora a questo punto quando lui ha cominciato a tirare fuori la parola obbedienza crescere i figli eccetera questa di me si era nascosta sotto il tavolo diretta oppure aveva sguainato la spada e lo voleva ammazzare visto che lei si era cominciato un po' ad alterare allora lui ha detto qua non c'è nessuno stigma nel parlare di queste cose qui siamo di fronte a un mercato dove c'è una domanda e dove c'è un'offerta dove tu devi convincermi che con te la mia vita migliorerebbe altrimenti non ci sposeremmo mai quindi concentriamoci su quest'ultimo punto che è la piacevole obbedienza mamma mia allora la piacevole obbedienza che cosa vuol dire vuol dire che io io che sto in modalità femminile in mindset in energia come vi piace chiamarla non ho paura non ho non lotto contro la leadership maschile non solo non lotto ma io la cerco la leadership maschile perché io so benissimo che la leadership maschile è un qualcosa che mi protegge che mi fa sentire sicura quindi benvenga l'uomo di valore di qualità che mi offre delle sicurezze delle certezze dal punto di vista affettivo sociale economico con i figli e tutto quanto benvenga io questo vado trovando da donna in energia femminile io non voglio competere con lui io cerco la sua protezione cerco la polarità e cerco che che cosa altro cerco in realtà che lui grazie alla sua mascolinità permette a me di essere in energia femminile cioè avete capito come funziona quindi quando voi trovate una donna che va contro questa cosa qui in realtà lei va contro la femminilità della donna e contro la mascolinità dell'uomo ok quindi non funziona allora questa diciamo questa obbedienza piacevole obbedienza che vuol dire questo migliora la qualità di vita di un uomo e questo può essere fatto in tante forme l'obbedienza allora quelle più comuni sono quelle più diffuse sono cucinare e pulire allora nel momento in cui io gli ho detto queste cose lei ha cominciato a gridare al patriarcato ecco qua avete fatto uscire subito questo nel giro di tre minuti ha fatto venire subito fuori la natura di questa qua ha capito che tipo di polarità avrebbe avuto la coppia che tipo di ruolo questa avrebbe avuto in famiglia come sarebbero stati cresciuti i figli avete visto quante cose vengono fuori con questo tutto viene fuori ok allora però io vorrei che considerassimo una cosa un uomo può pagare quei servizi ed è per questo che che ormai molti uomini non diciamo non come dire ed è per questo che molti uomini stanno rifiutando rifiutandosi di sposare le donne e fare dei figli con loro allora molti uomini infatti si stanno rifiutando cioè il movimento lì dei Meg Tau questi sono uomini che ormai vedendo questa situazione e io li comprendo vedendo questa situazione dicono ma a me chi me lo fa fare dipendermi a qui io a questo punto mi prendo pure a una che me la metto pure in casa per qualche mese ci faccio un po' di convivenza perché tanto un po' di compagnia c'era però scarico non le do nessuna certi perché le donne si sono date una zappata sui piedi enorme con questa roba qui con questo femminismo perché loro non sono più protette dagli uomini a questo punto gli uomini dicono benissimo tanto io per tenere la casa pulita mi devo pagare la cametina per farmi crescere i piedi devo pagare il nido per fare pure una lavata a terra devo chiamare qualcuno allora sai che ti dico io non ti offro nessuna certezza e fanno bene a questo punto fanno bene perché il contributo femminile non c'è più ok il contributo femminile non c'è più e quindi loro dicono il mio contributo maschile non te lo do eh ti fotti scusate ti freghi ti freghi allora dunque nel momento in cui tu vedi questi compiti per esempio già del cucinare e pulire come un modo per essere asservita in maniera opprimente dall'uomo da parte dell'uomo e quindi dal patriarcato ecco già questo ti fa capire tutto allora una donna energia femminile invece non ti dirà mai questa cosa dirà a me fa piacere prendermi cura della casa prendermi cura dei bambini magari arredare la casa in un certo modo farti trovare una cosa una bella cena la sera ok è molto diverso sentire questo sentire questo anziché una che ti subito ti parla del patriarcato eccolo qua subito allora è inutile che le donne pensino che badare alla casa i bambini cucinare bla 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 siano lavori di basso valore perché non lo sono e ti faccio un esempio ma io posso fare subito un esempio nel momento in cui tu non vuoi fare queste cose e devi farle fare da qualcun altro poi qualcun altro lo devi pagare perché è un lavoro che fa ok ma soprattutto chi cresce i bambini è un lavoro di alta responsabilità è una è un qualcosa di impegnativo quindi tu devi pagarli cara e amare queste persone e i tuoi figli sono sempre in mano a qualcuno quindi allora quando tu vai in un ristorante stellato per la cena ovviamente la cena sarà costosa magari ci saranno volute settimane di prenotazione per bloccare il tavolo perché ovviamente tutti vorranno andare lì per il servizio ovviamente allora se durante la cena adesso chiami il cameriere e chiedi un bicchiere d'acqua una cosa molto semplice lui ti può dire no veramente noi siamo un ristorante di alta classe quindi serviamo soltanto lo champagne l'acqua la puoi trovare dappertutto quindi se vuoi l'acqua ti incoraggia ad andare in qualche altro posto di bassa lega se tu ricevessi una risposta di questo tipo non ti piacerebbe ricevere questa risposta no? quello che rende un ristorante di alto livello non è il fatto che non faccia ciò che fanno i ristoranti medi come servire l'acqua ma che faccia tutto ciò che fanno i ristoranti medi e in più e in più te lo fai in maniera con uno standard di classe insomma con uno standard molto elevato e questa è la differenza quindi se tu vai nel pub di periferia l'acqua te la serve un bicchiere di plastica preso dal rubinetto ma se tu magari lo stesso bicchiere d'acqua lo chiedi al ristorante di lusso lui ti darà il bicchiere di cristallo la fettina di limone il ghiaccio tutte queste belle cose te lo serviranno pure con un sorriso e questa è la differenza allora sempre un bicchiere d'acqua è però però la cosa è diversa anche le cose di basso valore le fanno con entusiasmo e perché il servizio è il servizio che migliora la qualità dell'esperienza quindi perciò tu i ristoranti di alta classe lo paghi parecchio perché tu devi anche pagare la professionalità di queste persone che pure per servirti un bicchiere d'acqua fanno una cerimonia praticamente allora poi chiaramente adesso noi abbiamo ovviamente non siamo più all'epoca in cui andiamo a lavare le lenzuole al fiume abbiamo la lavastoviglie la lavatrice il robottino che toglie la polvere abbiamo il cioè siamo molto facilitati diciamo la verità rispetto alle nostre antenate che dovevano accendere il braciere la mattina noi siamo molto avvantaggiati quindi abbiamo tantissimi aiuti io mi alzo la mattina e trovo tutti i piatti lavati asciugati perché la lavastoviglie me ne ha fatti quindi voglio dire con l'aspirapolvere subito tolgo la polvere e poi la macchina del vapore mi lava a terra su insomma siamo molto facilitati quindi questo si deve pure dire quindi poi magari questo qua ti dà pure due volte a settimana la signora ripulizie quindi questo non è che non lo puoi avere però quindi lui dice alla fine se io ti do tutti questi agi questi comfort e ti do pure la signora ripulizie l'aspirapolvere la lavastoviglie tutte queste belle cose non mi puoi venire a dire adesso che se la sera devi provare un piatto di spaghetti mi fa scendere il patriarcato perché vedete è una cosa di è un qualcosa come dire proprio di ideologico che hanno nella zucca queste qua avete capito perché poi magari la stessa persona che fa questi discorsi quando va a vivere con l'amica o con la sorella o con chi cavolo le pare lei cioè con qualcuno che non sia un uomo lei vi faccio vedere come si fa la lavata a terra e come la sera si cucinano gli spaghetti perché chi è che glielo fa anzi lei lo deve fare ancora di più perché un uomo di questo calibro che magari le paga pure che magari le può pagare una bella casa con la lavastoviglie non ce l'ha quindi la loro lo fanno è perché la non c'è il patriarcato quindi è una cosa ideologica avete capito voi questo dovete andare a vedere allora allora quando ora noi cosa chiediamo alla fine in termini di contributo a una donna non mi sembra una soggiogazione tale da non poter cioè da come dire da non poter giustificare queste esigenze perché se io sull'altro piatto della bilancia ti sto mettendo lo stipendio grosso la casa le sicurezze le certezze e cazzarola ti sto mettendo tante cose sul piatto tu non mi puoi dire che adesso non mi puoi fare il piatto di spaghetti tisenoti e l'oppressione del patriarcato insomma è un po' esagerato adesso l'unico motivo che riesco ad individuare è un motivo di ego è un grande problema di orgoglio è un problema proprio di ideologia che hanno inculcato nella testa di queste qua perché hanno riempito la testa delle donne con tutta una serie di sciocchezze e loro non se ne rendono neanche conto ma stanno pagando a prezzo carissimo questa ideologia è vero perché adesso questa qua dopo che se ne esce da questo appuntamento questa non la vuole neanche più vedere eppure aveva trovato un uomo di valore un uomo che le avrebbe dato certezze che le avrebbe dato delle sicurezze che avrebbe che magari l'avrebbe sposata le avrebbe fatto avere una bella famiglia l'avrebbe protetta e lei per fare queste minchiate del patriarcato lei l'ha perso e adesso si frega adesso se ne va nella casa con i gatti e la spira povera e là la passa perché là il robottino non ce l'ha magari perché queste magari guadagnano 500 euro al mese non fanno niente di tutto questo stanno pure in affitto dentro agli scantinati però e hanno perso pure un affetto hanno perso anche la vicinanza di un uomo voglio dire voglio dire allora lui ha cominciato a dire allora se tu mi perché lei ha cominciato poi a parlare del patriarcato ma com'è oh sì ma qua ma là senza che diciamo tutto il discorso quindi alla fine lui ha detto vatti a cercare un asinello non potrai mai avere un cavallo di razza come me questo è il punto trova un uomo che abbia quello che hai tu cioè quasi niente e costruitevi qualcosa insieme perciò queste femministe trovano sempre uomini di bassa lega di basso valore è normale ma così deve essere le donne che stanno in scarsa energia femminile non trovano mai degli uomini belli in energia maschile dominanti e come si deve in grado di dare certezza no è normale perché questi qua sapete cosa dicono dicono ma tu sei tanto brava vuoi fare 55 benissimo allora pure se sei incinta di 9 mesi tu ti vai a fare il tuo torno di lavoro perché io non faccio nessuno straordinario per pagarti le bollette sai che me ne frega a me vacci tu e quindi si sono fregate hanno perso l'alleanza con l'uomo hanno perso la protezione dell'uomo hanno perso gli uomini di alto valore hanno perso tutto queste qua per andare dietro a queste minchiate se stai cercando un uomo che non chiude occhio di notte perché insegue il suo progetto l'uomo alfa vedete perché insegue il successo beh tu non lo puoi avere non puoi dargli dei figli perché tu non sei pronta a fornire del valore nella vita di quest'uomo e il valore che lui considera è questo avete capito questo questo l'ha detto un uomo non è che l'ho detto io la donna di valore per un uomo di questi non è quella che ha fatto il dottorato ad Harvard lui sa quanto se ne frega il dottorato ad Harvard cioè se tu lo vuoi fare lo fai ma per cavoli tu ma non ti fa apparire di valore agli occhi di questi qua l'uomo di valore quando vuoi cerca la donna di valore giustamente cerca la donna l'energia femminile mettetevelo qua non cerca nient'altro cerca una donna in grado di supportarlo di crescere i figli che sia contenta di anche di badare alla casa perché anche questo si deve fare dichiaragli un ambiente confortevole in casa lui non se ne frega niente di tutto il resto perché lui dice non ti preoccupare di comprarti la Ferrari quella ci penso io te lo compro io ma io voglio altri cavoli da te ok queste sono le parole di un uomo non sono le mie allora questo è un valore che lui considera prezioso è qualcosa che lui considera di valore nella tua prospettiva quello che tu consideri prezioso e di valore cioè io sono istruito il dottorato bla 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 non è quello che si considero io di valore allora vabbè poi sono tutte considerazioni finali che abbiamo fatto già noi comunque avete capito quindi questo qui ci ha dato la conferma ancora una volta del fatto che innanzitutto un uomo di valore non se ne frega niente di trovare un suo simile un suo pari lui vuole una donna vuole una donna che sia un'energia femminile che sia polarizzata vuole una donna con cui esista una bella differenza di potenziale se la vogliamo chiamare così perché come forse sapete quanto più differente la polarità più forte il legame ionico che si crea quindi questa cosa funziona in realtà e poi ci ha fatto capire anche un'altra cosa che io ho sempre suggerito agli uomini agli amici ai ragazzi a chiunque durante il dating voi dovete accertarvi della dell'idea che questa qui ha della mascolinità della femminilità dei rulli di genere della polarità basta senza fare tutto potete anche evitare di fare tutta questa cosa basta una domanda si vede subito ah senti ma lei ha cominciato a parlare di figli di matrimoni ah benissimo ma nel momento in cui nascono questi figli tu come pensi di come pensi di crescere ah no ah no io non mi sposto di un centimetro vanno all'asilo a tre mesi di vita ah 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 allora nel momento in cui vedete questo tipo di formamenti voi vi dovete alzare e ve ne dovete andare perché questa cosa qui non la cambiate non la cambiate assolutamente anzi le persone più vanno avanti con gli anni e più le loro idee si solidificano si rinforzano quindi se voi non volete un rapporto con polarità diciamo invertita ma volete una donna in energia femminile dovete assolutamente affrontare questi discorsi ma in realtà adesso essendoci social potete anche evitare di affrontare questi discorsi perché con i social viene fuori subito subito viene fuori lei in che modalità sta perché se voi vedete cominciate a vedere i post di alfa woman sul patriarcato le scarpette rosse e gli uomini sono tutti violenti basta una cosa di questa voi già capite è inutile anche fare domande cioè proprio è matematico ok perché ormai si sono create ci sono queste due fazioni proprio belle distinte e separate in cui da un lato trovate le donne progressiste femministe patriarcato l'uomo violente eccetera eccetera e dall'altro lato trovate le donne in energia femminile che invece accettano accettano non solo accettano ma li cercano i ruoli di genere perché vogliono costruire qualcosa in un certo modo e quindi praticamente a seconda di come siete voi se state di qua o state di là voi dovete trovare qualcosa che sia uguale perché in queste cose profonde bisogna essere uguali non c'è niente da fare poi non ha importanza se a voi piace l'acqua liscia l'acqua frizzante se a voi piace il tennis se a quella vi piace fare dormire sul divano non c'entra niente queste cose non servono a niente dovete vedere la polarità e i ruoli di genere guardate se non vedete questo purtroppo non andate da nessuna parte va bene cari signori prendete appunti queste sono cose che valgono sia per gli uomini che per le donne capire queste cose perché le donne devono capire una volta per tutte che per beccarsi un uovo di qualità devono essere femminili e per gli uomini invece perché devono capire che devono andare a vedere a indagare su queste cose bisogna andare a indagare assolutamente su queste cose va bene mi raccomando